buongiorno a tutti mi presento sono laura fontana e della ditta socio titolare della ditta helio graff snc insieme a mio fratello roberto e ci siamo serviti quest'anno della della pubblicità attraverso rossini tv ci siamo trovati molto bene e anche con un buon descritto discontro soprattutto sotto il periodo festivo natalizio le persone sono entrate anche dicendoci di essere di aver visto la pubblicità sull'ossini tv sia clienti nuovi che clienti vecchi quindi questo è stato un buon rientro nello gira lo spot ci siamo trovati molto bene il personale qualificato accogliente ci ha aiutato anche a sviluppare nelle nostre idee attraverso la pubblicità lo consiglio a tutti dal 1983 a pesaro helio graff stampiamo tutto su tutto